Un cordiale saluto. Benvenuti nello spazio meteo con analisi modellistiche europee e previsioni su scala nazionale curato da Meteograd. Bollettino meteo per il giorno martedì 28 dicembre 2021. Situazione ed evoluzione generale su scala euro-mediterranea. Tende gradualmente ad attenuarsi l'intenso flusso atlantico presente su tutta l'Europa ed il Mediterraneo, responsabile di diffuso maltempo. Al suo posto si fa strada da sud una vasta zona di alta pressione subtropicale, sotto la spinta ascendente del getto sul bordo orientale di una profonda depressione oceanica. Il tempo sarà dunque in progressivo miglioramento, con tuttavia cieli che rimarranno nuvolosi nei bassi strati per l'elevato tasso di umidità. Temperature in netto aumento in quota. Aumento che proseguirà nei giorni successivi con l'affermazione dell'anticiclone subtropicale che spazzerà via le condizioni invernali da tutta l'Europa. Previsioni meteo in area italiana per il giorno martedì 28 dicembre 2021. Nord. Cieli generalmente coperti con nubi più compatte sulle zone pianeggianti, dove si avranno anche delle nebbie nei bassi strati. Tendenza nel corso della giornata al peggioramento sulla cresta alpina di confine con l'ingresso di rovesci sparsi, nevosi oltre i 1300 metri. Dalla sera qualche timida schiarita si farà strada sul Piemonte e sulla Liguria. Centro. Nubi sparse, a tratti consistenti, in particolare lungo il versante tirrenico. Tali nubi daranno luogo a qualche debole piovigine a ridosso dei rilievi appenninici e sulla Toscana, in attenuazione serale. Nuvolosità meno compatta sulle zone adriatiche, con spazio anche per delle timide schiarite lungo le coste. Sud e isole. Irregolarmente nuvoloso con nubi più consistenti al mattino, associate a residui e precipitazioni sul settore ionico, sul nord della Sicilia e sul basso tirreno. Seguirà un rapido miglioramento con schiarite ad iniziare da nord, in ulteriore affermazione serale. Temperature massime nel complesso stazionarie, molto miti al centro-sud e sulle isole. Minime stazionarie o in lieve aumento nelle zone di pianura e sul versante tirrenico, fino a valori decisamente oltre la media del periodo. Ventilazione da debole a moderata rotazione ciclonica attorno ad un minimo depressionario in spostamento al centro-sud. Qualche rinforzo sarà possibile sulle isole ed in area tirrenica. In serata rotazione dei venti da ponente al centro-nord, con raffiche fino a forti sul mar Ligure. Mari da mossi sui settori adriatici, fino a molto mossi sui settori tirrenici, con moto ondoso in aumento sull'alto tirreno. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale per ricevere ogni giorno il bollettino meteo aggiornato. Fai clic anche sulla campanellina per ricevere le notifiche istantanee riguardo nuovi bollettini o contenuti.